Prosegue e si rafforza con il passare dei giorni la gara di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma. A Cassovillare il gruppo Oltra, Castro UC11, si è mobilitato per la raccolta di beni di prima necessità. Era doveroso Carlo, quando si parla di Ultras non si parla solo di campo, di tifo, ma anche di altro, soprattutto di cuore. Noi come gruppo Ultras ci siamo organizzati, abbiamo fatto partire questa macchina che all'inizio era una piccola macchina, adesso si sta mettendo in moto una cosa molto grande, siamo contenti che tutta la popolazione di Castrovillari e ci stanno aiutando anche altri comuni che porteranno qui la loro raccolta, siamo ben contenti di tutta questa grande collaborazione che c'è tra di noi. Noi in quanto zona sismica capiamo i disagi e sappiamo quello che si può provare con un terremoto. Questa gente non ha più nulla, non ha più niente, hanno perso case, hanno perso tutto. Ci sono bambini che sono senza niente terrorizzati e noi vogliamo dare il nostro contributo. Sappiamo che la protezione civile ha bloccato tutte le raccolte fondi, ma noi ci teniamo a precisare, non stiamo collaborando con la protezione civile perché loro hanno i container pieni, giustamente aspettano lo smistamento. Noi ci stiamo organizzando con altri gruppi Ultras, quali quelli di Torre Annunziata, insieme partiremo per Torre Annunziata e smisteremo tutto su un container della misericordia. La popolazione castrovillarese ha ben risposto. I beni raccolti sono stati portati presso la sede degli Ultra oplontini di Torre Annunziata per essere spediti alle popolazioni colpite dal terremoto. Grazie, grazie a tutti e forza Castrovilla, rifacciamo sentire che noi ci siamo.